Ciao, sono Leonardo Naso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività a Roma e provincia da oltre 20 anni. Oggi tratto un argomento molto importante per coloro che volessero vendere o comprare casa tramite un'agenzia immobiliare. Molto spesso si confonde il ruolo dell'agente immobiliare che ha fondamentalmente il ruolo importante di mettere in contatto una parte venditrice con una parte acquirente e fare in modo che le due parti trovino un accordo tra di loro per la conclusione dell'affare con alcuni aspetti dell'attività svolta invece da un notaio. Il notaio per l'autonomia è un pubblico ufficiale e soprattutto svolge il ruolo importantissimo di effettuare tutta una serie di verifiche e che sono proprie deutiche al trasferimento della proprietà da parte di un proprietario a un nuovo acquirente. Ecco, nell'immaginario collettivo una persona che compra casa immagina che tutti gli agenti immobiliari quando appunto propongono un certo immobile in vendita, siano obbligati a effettuare le misure ipotecarie. In realtà la normativa non prevede questo. La normativa prevede che l'agente immobiliare utilizzi la normale dirigenza professionale per svolgere il proprio lavoro che però è prevalentemente appunto quello di mettere in contatto una parte acquirente e una parte venditrice per la conclusione positiva di un affare. E quindi a volte può succedere che un immobile proposto sul mercato da un agente immobiliare venga acquistato da un acquirente che fa magari una proposta di acquisto e stipoli un contratto preliminare di compravendita e poi quando tutta la documentazione viene trasferita al notaio si scopre che magari su quell'immobile c'erano delle informazioni o degli aspetti negativi che possono indurre eventualmente anche l'acquirente a ripensare sull'acquisto. L'esempio più eclatante è che sull'immobile sia stato trascritto un pignoramento ora il fatto che esista un pignoramento di per sé non vuol dire che l'immobile sia in qualche modo fasullo o che non possa essere venduto però certo è che sicuramente un acquirente desidera saperlo prima perché potrebbe anche decidere di non iniziare una trattativa sull'immobile oggetto di pignoramento io personalmente ormai da tanti anni prima quando ero proprio agli inizi della mia attività ho sempre ritenuto che comunque fosse anche se non previsto obbligatoriamente dalla legge un dovere etico dell'agente immobiliare garantire le parti del proprio operato quindi io all'inizio della mia attività chiedevo ai notari con cui collaboravo di effettuare le misure ipotecarie sull'immobile che proponevo in vendita oggi ovviamente con l'esperienza maturata sono in grado di poter svolgere da solo le misure ipotecarie quindi tutte le volte che un proprietario mi conferisce l'incarico di vendere un immobile a mie spese provvedo a fare le misure ipotecarie sull'immobile proprio per evitare di scoprire in fase tardiva eventuali sorprese negative la presenza di un'ipoteca legale per esempio trascritta dall'agenzia delle entrate e riscossioni oppure un pignoramento di un creditore del proprietario è normale che possano anche essere presenti ipoteche relative al mutuo in corso che il proprietario sta pagando che non devono essere di per sé considerate elementi negativi non è che perché ci sia una ipoteca di una banca sull'immobile che l'immobile non si possa vendere allo stesso modo non è che se c'è un'ipoteca giudiziale ossia un'ipoteca che un giudice ha ordinato di trascrivere sull'immobile perché ad esempio il venditore ha perso la causa con una controparte gli deve dare dei soldi e quindi per garantire che paghi quei soldi il giudice ha ordinato di trascrivere un'ipoteca sull'immobile di proprietà del venditore è normale che viene fatto questo per cercare di garantire che quei soldi poi vengano effettivamente dati al creditatore non sono di per sé elementi che possono pregiudicare la vendita però è bene che un acquirente ne sia informato prima perché nelle sue valutazioni di formulazione di un'offerta quindi anche del prezzo da offrire potrebbe essere influenzato dalla presenza di questi elementi a me è capitato una volta addirittura in una collaborazione con un altro agente immobiliare io avevo il cliente acquirente e questo agente immobiliare aveva il cliente venditore e dando per scontato che questa collega lavorasse allo stesso modo in cui lavoravo io pensavo avesse fatto le visure ipotecare e invece stiamo parlando di tantissimi anni fa quando ero proprio agli albori della mia attività andai poi a scoprire successivamente che le visure ipotecare non erano state fatte e che in quel caso specifico non c'era nulla di grave se non un'ipoteca per un mutuo residuo e l'acquirente comunque non rimase particolarmente soddisfatto in quel caso perché comunque avrebbe gradito saperlo prima anche se ripeto non era un elemento di pericolo quindi da quel giorno decisi di fare sempre le visure ipotecarie anche quando riguardano immobili che stanno vendendo altri agenti immobiliari e presso i quali io magari porto i miei clienti acquirenti e sugli immobili che acquisisco li faccio sempre e immediatamente e tra l'altro le ripeto nel tempo tipo se acquisisco un immobile a ottobre e poi prendo una proposta a gennaio faccio la visura ipotecaria sia a ottobre ma la rifaccio a gennaio cioè poco prima di consegnare l'assegno al venditore per essere certo che nel frattempo non ci siano state delle novità negative non esiste l'obbligo giuridico di farlo è una questione diciamo di scelta personale su come si vuole operare io ritengo che un agente immobiliare professionista debba fare le visure ipotecarie per tutelare innanzitutto il proprio lavoro e subito un secondo dopo per tutelare l'acquirente e il venditore che comunque lui mette in contatto per una compravendita sicura e sana quindi il consiglio ai proprietari che si rivolgano all'agente immobiliare è di mettere per iscritto nel contratto che è d'obbligo per l'agente immobiliare di effettuare le verifiche ipotecarie che possono appunto consentire una trasparente comunicazione a tutte le parti su quello che è lo stato ipotecario dell'immobile in particolare sconsiglio ai venditori di fare da soli quindi se questo video è tornato utile ti consiglio di iscriverti al nostro canale clicca sulla campanella per essere avvisato quando pubblichiamo altri video e metti mi piace se hai gradito il contenuto dello stesso puoi seguirmi anche sul nostro sito www.lrimobiliarieroma.it su tutti i nostri canali social da Leonardo Raso un buon immobiliare a tutti ciao